Ebbè, però Barzali è uscito, guarda dove è andato a far fallo. Entra Platini! Pogba! Pogba in campo con Alessio che gli dà le ultime indicazioni. Jovinco, 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 il sinistro, la palla viene deviata, stava per arrivare dalle parti di Matri, Pogba! Pogba! Primo gol, grandissimo gol di Pogba! Alessio ha indovinato tutto. La palla gli è arrivata ai 18-19 metri, il sinistro, il sinistro che ha dato nell'angolino e la Juventus duplica 2-0. Cavoli Graneris che urla più di Gambaro, Gambaro ha mutolito. Gol meraviglioso di Pogba! Aveva campo, ha calciato il vuolo e è stato bravo. Questo è un buon giocatore, questo può diventare un grande giocatore. Tecnicamente ha fatto... Non è pirlo. Ma chi ha parlato che è bravo e che non è bravo? Ma chi ha mai parlato di Pogba che è bravo? Ma ti dicevi Berratti, quando avete preso Berratti! No, 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 no! Tu, no, tu! Avete preso Pogba e Pogba, Berratti! Gambaro, tu, Pogba! E' entrato Platini ha detto prima, è entrato un tronquavo!